Sono Edi Nardini, presidente del Rotary Club Pordenone-Altolivenza. Questa sera al nostro club avremo un ospite d'eccezione, la professoressa Daniela Lucini, psicoterapeuta, specialista dello stress, docente all'Università degli Studi di Milano e dove presta anche la sua collaborazione all'ospedale Sacco. Lo stress lo consideriamo tutti una malattia, ma è veramente così. È una malattia, è una necessità, è uno sfogo del proprio corpo, è una forma di debolezza. Questa sera sicuramente ce lo dirà la professoressa Lucini, che io ho avuto il piacere di incontrare a Pordenone un anno e mezzo fa, attraverso degli amici, la Zita ed Eugenio, due care persone. Gli ho chiesto se fosse venuta a farci una serata ed ecco che il miracolo sia vera. Questa sera l'avremo al nostro club con la partecipazione della FIDAPA, la Business Professional Women di Pordenone. Saremo in tanti, sarà una serata interessantissima. Io mi limito a questo e passerei la parola alla professoressa che potrà dirci qualcosa di più in merito. Lo stress è sicuramente una delle parole più usate o forse abusate che in questo periodo la nostra società utilizza. Chi non ha mai detto oggi sono stressato o piuttosto che ho tanti problemi di stress. Diciamo che dietro a questa parola si può nascondere o comunque celare un'importante realtà clinica. Innanzitutto credo che bisogna dire che lo stress non è di per sé una malattia, ma è un qualche cosa di normale, di fisiologico. È una reazione, è una risposta che il nostro organismo mette in atto per permetterci di far fronte alle varie esigenze, alle varie performance che noi dobbiamo fare. Certo però che in alcuni momenti e specie quando queste richieste possono essere particolarmente importanti o per durare tanto nel tempo, il nostro organismo è come se non ce la facesse. Ecco quindi che c'è proprio una necessità di avere delle risorse che in quel momento non ci sono. Quindi se dobbiamo dire che cosa è lo stress, da un punto di vista invece di vista negativo, possiamo sicuramente dire che lo stress innanzitutto non è la causa, ciò che ci fa star male, ma lo stress è rappresentato dalle conseguenze, vuoi fisiologiche, vuoi psicologiche, vuoi comportamentali, che una persona ha in conseguenza proprio dell'interazione con una causa, con un qualche cosa che teoricamente non ci piace. Ecco quindi quando una persona non ce la fa a far fronte a un evento, a una situazione, specie quando è lunga e cronica, da un lato può star male, conseguenze di tipo proprio fisiologico, fisico, non riesce a dormire la notte, il cuore che batte forte o cose di questo tipo. Dall'altra parte può avere del malessere di tipo psicologico, penso alle cose in maniera diversa, a un umore che varia, e soprattutto può avere delle conseguenze di tipo comportamentale, cioè che se ne renda conto o no, si comporta in maniera diversa, al mangiare in maniera diversa, di più, di meno, riprendere e fumare, smettere di fare attività fisica, e soprattutto cambiare ad esempio le relazioni con chi sta intorno. Problemi di lavoro, vado a casa e sgrido il figlio, una cosa che quasi è da barzelletta, ma è ciò che realmente succede. Se proprio vogliamo un attimino entrare un pochettino più nel dettaglio e capire perché, se quando ho una condizione di vita pesante, sento il cuore che batte forte e mi comporta in maniera diversa, dobbiamo a questo punto ricordare altri due fattori importanti, che sono proprio tutte quelle che sono i meccanismi di controllo del nostro corpo umano e proprio anche l'individualità, la genetica che una persona può avere. In poche parole, quello che succede è che, a seconda anche di caratteristiche individuali o di predisposizioni genetiche, l'organismo mette in atto dei sistemi di controllo, il principale dei quali è il sistema nervoso autonomo, tanto per darvi un'idea, è quella specie di pilota automatico, diciamo così, che è in grado di far funzionare, indipendentemente dalla volontà, tutti i nostri organi, per cui il cuore batte, piuttosto che respiriamo, grazie a questo sistema. Nella realtà dei fatti questo sistema è invece molto ben correlato e collegato con alcune parti di emotività, con alcune parti di volontà. Ecco quindi che quando mi rendo conto che c'è una cosa importante o pericolosa, il mio sistema nervoso autonomo si mette in atto, la parte soprattutto simpatica, questo è il nome tecnico di questa parte di sistema nervoso, incomincia a funzionare di più, scarica, dà un ordine all'organismo e, ad esempio, il cuore si mette a battere più forte. Ecco quindi che da un pensiero nasce un sintomo. Come poi il comportamento cambi, questo è un qualche cosa di più complesso, diciamo solo che in alcuni momenti può essere una risposta, un tentativo di far fronte all'esigenza, in altri momenti forse sembra essere così, ma in realtà è un qualche cosa di controproducente.